Siamo a Borgo Valsugana per la partenza della diciottesima tappa del Giro d'Italia ed ovviamente prepariamo la polenta. Ci sono moltissimi modi per fare la polenta. Noi la facciamo con un ragù di salsiccia e funghi. Gli ingredienti sono passate di pomodoro, vino bianco, salsiccia, carota, sedano e cipolla, polenta istantanea, però se avete tempo potete fare quella classica, e misto di funghi. Puliamo bene i funghi con un panno di carta leggermente umido. Tagliamo i nostri funghi a listarelle. Quando la salsiccia ha sudato, cioè ha buttato fuori il grasso, mettiamoci i funghi. Sfumiamo. E adesso aggiungiamo la passata di pomodoro. Versiamo la polenta nell'acqua bollente. Ora che la polenta è pronta possiamo impiattare. E la polenta con salsiccia e funghi è pronta. Grazie. Grazie. Grazie.